L'outlet come luogo poliedrico e multifunzionale, realizzato dalla città per la città. È con questo obiettivo che nasce un nuovo spazio teatrale all'interno del cilento Outlet Village, pensato per far vivere la realtà dello shopping e del tempo libero in un modo tutto nuovo e speciale. La struttura, la prima esperienza del genere in un outlet in Campania, è stata inaugurata ieri con uno spettacolo di Maurizio Casagrande, che ha portato in scena e la musica mi gira intorno, uno show brillante e divertente dove il protagonista racconta al pubblico i suoi ricordi, i suoi aneddoti e i suoi pezzi di vita. Io sono felicissimo e onorato di essere io a fare questo, perché si dice sempre questi caspiti di centri commerciali, supermercati, chiudono i teatri, una volta tanto si apre uno spazio teatrale all'interno di un outlet come questo, così accorsato, con tanta gente. Insomma, secondo me è bellissimo creare dei posti dove si possa fare teatro, in senso ampio della parola, di tutti i tipi, ma in mezzo alla gente, dove la gente va per fare altro, vede il teatro, ma quasi qua si va da vedere e si avvicina a qualcosa e poi casomai ci torna per ragioni più dirette. Prima dello spettacolo si sono accese le luci del grande albero all'ingresso del centro, che resteranno accese per tutto il periodo natalizio. Francesco Furino, Managing Director del Cilento Outlet Village, ha sottolineato. Diamo il via alla shopping experience natalizia, un tema di cui il Cilento Outlet sta appunto lavorando, ma in particolar modo attraverso contenuti di spessore, ma soprattutto per associare cultura, divertimento, spettacolo ed entertainment allo stesso tempo. Non solo spazi di cultura e non solo tradizione al Cilento Outlet Village, ma tanti progetti in cantiere, spiega Felicità Merlino, direttrice del centro. Beh, abbiamo innanzitutto un'animazione per bambini che ci accompagnerà fino al 6 gennaio, alla festività. Abbiamo dei concorsi legati sia agli adulti che ai bambini e quindi chiaramente invito tutti quanti a seguirci sulla parte digital. Sceglieremo anche il personaggio dell'anno che ci accompagnerà per la campagna promozionale del prossimo anno del Cilento Outlet Village. L'8 dicembre avremo qui i neri per caso con un loro spettacolo molto particolare.